Tutto pronto sul circuito di Varano per quanto riguarda la 600 Open e Stock Il Polman è l'auriero Donen, nativo di Johannesburg, in prima fila con lui Daniele Galloni sulla Ducati e Michael Ferrati a chiudere la prima fila su Yamaha Seconda fila Caffani, Osler, Terra Nova ha tra poco 2350 metri di percorrenza al massimo per provare a vincere quella che è una delle categorie più apite dei trofei moto estate Tutto pronto, eccoci qui via partiti con il mio fianco Andrea Tomio Ciao ragazzi, ben ritrovati, subito carichi, madonna, lungo di Kevin Terranova Eh sì Ho visto, mamma mia che lungo Con la telecamera di Caffani, intanto Andrea andiamo a commentare subito quella che è la prima fila con Galloni Che si prende la prima posizione a scapito di Leoniero Donen, classe 99, nativo di Johannesburg È una wild card Tu mi puoi spiegare un po' chi è Daniele Galloni, anche perché lo conosci abbastanza bene Daniele Galloni, sì, è un pilota molto giovane che quest'anno appunto ha provato a inserirsi nella 600 Open Appunto in sello alla Ducati E dai, si è subito trovato un avversario Un bel avversario che ridà la destina da torcere Bene anche Caffani, Andrea in terza posizione Che partiva dalla quarta con la sua Honda E noi ricordiamo che sono tutti quanti Open Pintato andiamo con Francesco Colo, numero 26 Si trova un po' in un gruppetto Attardato Colo Che sta cercando un po' di fare anche lui da sparring Per quanto riguarda quella coppietta di testa Quei due lì davanti vanno forti, Andrea? Vanno forti, vanno forti L'hanno già fatto vedere in qualifica Che davvero hanno fatto un po' la differenza E probabilmente adesso in gara Vedremo i primi due scappare un attimino via E con Caffani Caffani che ci prova a salire dietro E occhio a quella bella volpe di Michael Ferrari Che è un pilota che sa anche il suo stato lico Intanto andiamo anche nell'elettrovia Naturalmente ad indugiare con diversi altri piloti Con Dorni che inizia a farsi minaccioso Alle sparite Daniele Galloni Un altro lungo Altro lungo Sembra la prima curva, Andrea Ti chiedo le condizioni atmosferiche Erano buone sicuramente, tu lo sai? Molto buone, sì, sì, sì Il tempo perfetto, assolutamente Oh, una scivolata intanto Aia, scivolata davanti a Treccani Mentre i piloti davanti continuano A battagliare con Dorni Che si è franco bollato Alle spalle di Daniele Galloni Ti chiedevo anche per quanto riguarda le gomme Non dovrebbero esserci problemi subito, Dorni Nessun problema per le gomme, giusto, Andrea? No, 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 nessun problema Noi appunto avevamo scelto una gomma Piuttosto morbida Perché comunque faceva comunque caldo E devo dire che siamo usciti con la gomma Assolutamente a posto Quindi nessun problema per le gomme Scelta corretta Intanto nelle retrovie Continuano ad avvicendarsi sempre A quella sorta di parabolica, Andrea Quella che mette fondamentalmente Prima della chicane Del rettilineo Tra poco arriveremo anche Al terzo giro di 10 Con diversi piloti Che continuano a battagliare Allora, quello che sto vedendo io, Andrea Caffagni si è messo lì In attesa Allora, mi sa che c'è stata una gallona Mi sa che c'è stata Una rottura Una rottura O comunque il picco Sì, ho visto che si sono fermati I piloti penso dietro Quindi tra poco potrebbe arrivare La comunicazione anche per quelli davanti Mentre Dorren ha attaccato Eccolo qua Dorren ha attaccato Vediamo se si riprende la posizione Galloni No, non ci riesce Tanto siamo ancora in attesa, Andrea Di quella bandiera Per capire quello che è successo Quello che potrebbe effettivamente succedere Dorren ha scavalcato Galloni Ma se le stavano dando dall'inizio della gara, Andrea Sì, sì, sì Assolutamente Adesso in questo momento Ecco Daniele ha Ha proprio nel mirino lui E sicuramente ha qualcosa da Da imparare Perché comunque sappiamo benissimo Che è un pilota Quello davanti un po' più grande Con esperienza Che arriva dal mondiale Il più grande è un 99 Quindi il tuo ragazzo È giovane Ha appena compiuto 16 anni Eccolo lì Ancora tanto da imparare E' bene che ci siano anche queste presenze Per noi Assolutamente La competitività al massimo Soprattutto Ma Sempre unita Ad un grande spirito Caffagni non molla Caffagni c'è Tra l'altro Ferrari Occhio Perché non è Solito A fare una gara In sordina Nei primi giri Per poi provare La spuntata alla fine Attenzione Sorpassa all'interno Di Terra Nova Su Como Su Como Su Como Che tra l'altro Abbiamo scoperto Potrebbe passare O meglio È passato Dalla parte Di Maurizio Morselli Che brutta caduta Che brutta caduta Brutta bruttissima Qui da parte di Batella Se non erro Balella Mannaggia Gli ha proprio Gli ha partito Mannaggia Sì Meno male c'erano le barriere Comunque Speriamo nulla di grave Dai Comunque Eh Chiaramente noi In post produzione Possiamo dire Nulla di grave Però abbiamo In quel momento In cui c'è stato L'impatto C'è stato veramente Un sussulto Comunque Bandiera rossa E adesso Bandiera rossa Evidentemente Andrea Alzano la mano Tutti quanti Via Alexa Torren A fianco Di Galloni Vediamo la partenza Qui Andre Riparte Parte di nuovo Galloni Sì 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 Qua Ferrari Intanto vediamo Che prova a passare Caffagna E ci riesce Ottimo spunto Di Michael Ferrari Che prima era più attardato Davanti di nuovo Galloni Davanti a Torren Assolutamente Ha uno start Pulminio Comunque sì Sembra di rivedere La partenza Della gara precedente Dalla stessa gara Esatto Della prima partenza Solo con il cambio Ferrari Caffagna Eh sì Qui Ferrari Ha avuto un grande spunto Quindi Galloni se non altro Non deve lavorare Sulla partenza Due partenze straordinarie Forse la parte centrale Andre Agevola di più Non penso Per l'usura della pista Però sicuramente Ah Subito Subito Però largo Forse rientra subito Daniele Galloni Le immagini In questo caso Non c'è di trossini Mi sembra che davanti Galloni Adesso Caffagna Tra un posto di Franco Bolla Sicuramente a Ferrari Per ripendersi la terza posizione Andre Ha preso anche un bel rischio Per fare Eh sì Stava uscendo Eh sì Sì è arrivato un po' troppo slanciato E lì rischi Che c'è poca strada Poi là in effetti Rischi di andare nella sabbia Guarda Andre Io te lo chiedo Ne parliamo spesso di Varano I piloti dicono I piloti dicono essere Una delle piste Se non la pista Più complicata Perché sforzi davvero Il fisico E' incredibile Sì Il fisico Metti tutto sotto stress I freni Che continui a frenare fortissimo Quindi Si riscaldano tanto I motori Comunque sono stressatissimi Cioè è una pista Molto fisica Altro dritto Sempre lì Curva 1 Curva 1 Curva 1 Curva 1 Quest'oggi Sta Sta davvero Mettendo a dura prova Tutti Galloni sta davanti Però adesso Galloni sta davanti Sa che ci sono pochi giri All'ordine di tirare Però Però ti dico una cosa Andre Dorne è una wild card Perché rischiare No Infatti È un discorso Che adesso abbiate fatto Anche scuderia E che facciano Che abbia Dorne Sai che in realtà Non abbiamo fatto in tempo A dirglielo In tempo Ah bene Abbiamo provato a dirglielo Ma non lo sapevamo Uh Caffagni scavalcato Intanto Ma la riprende Osler Osler davanti a Caffagni Che sorpasso Andre Gli si è messo davanti Voglio capire se Dorne Ha passato Galloni No No ancora no E Comunque Sì Forse è stato anche un bene Che lui non sapesse Che appunto Dorne Continua a wild card Così almeno Dai L'obbligo di correre Di provare ad andare Intanto Dorne Si mette davanti In questo caso Andre Si mette davanti Su Galloni Dopo curva 1 Ferrari sta ricucendo Lo strappo Caffagni sta perdendo Osler è entrato Su Caffagni Caffagni Stava volando In gara 1 Sembrava verne di più Adesso Ha perso qualcosina Assolutamente Assolutamente Infatti Probabilmente Ha avuto qualche problema La partenza Un ritiro Un ritiro Da parte di Santolico Uno dei piloti Stava provando Anche lui A battagliare Qua Dorne Stava provando Da dare uno strappo Andre Si sta provando Anche perché Ormai Mancano Quattro giri Alla conclusione Quindi Era Era il momento Un po' L'archino Era il momento Di tirare La gara Si fa corta Intanto Vediamo Che Terra Nova Altra sbandata Terra Nova sta provando A deliziarci Uno Non deve cadere Questo è sicuro Ma sta provando Deliziarci In tutte le maniere Dorne intanto Prende un secondo In questo giro Galloni Inizia a mettersi A modalità Squalo Prova a scappare Ferrari Non mi sembra Che abbia le carte Per rientrare Caffagni Intanto Si è rimesso quarto Si è rimesso quarto E Si sta facendo Attenzione Sì Comunque ormai È tutto un po' I primi tre Hanno preso un po' di mano Anzi no Caffagni Non si è rimesso quarto Andre Sembrava Dalle immagini In precedenza Si fosse messo quarto È quinto Con quarto Osler Che sta veramente Facendo una bella gara Sta andando Sta andando davvero forte Infatti Anche Rispetto allo scorso anno Devo dire Che ha fatto un bel salto in avanti E Sta Sta facendo una bella gara Sta facendo una bella gara Intanto Le telecambe Indugiano Chiaramente anche su Gli scontri Che ci sono Nelle retrovie Terranova Abbiamo visto prima passare Stansavini Abbiamo visto passare Diversi piloti Siamo a 7 su 10 Intanto qui Qualche sorpasso Mamma mia ragazzi Quanto rischiano Quei ragazzi dietro Quella è Cavallara Con Solca Se le stanno andando in santa ragione Dorren scappa Uno e mezzo Anzi uno e otto In questo caso André Bello Bello anche Su Ferrari Che tiene la terza posizione Dietro Osler Ormai Si è messo davanti a Caffagni E Mancano due giri André Mancano due giri E anzi Sta arrivando anche Terranova Su Su Caffagni C'è un po' lontano ancora Però Sta provando a sbarazzarsi Del suo Terranova Che è Salsavini Vediamo se ci riesce Poi se prova la volata Su Caffagni Se ne ha Ancora per restare Lì in bolla Con loro Solca Cavallara Intanto inquadrati Anche il gruppetto di mezzo Quello mediano Mentre cercano veramente In qualche maniera Di andarsene I due davanti E effettivamente Dorren André Sembrava Già avevamo avuto l'idea Che ne avesse qualcosa di più E mi sembra che l'abbia confermato Per ora Assolutamente Sì 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 Aveva Chiaramente Ma l'avevamo già visto Dalle qualifiche Tutti Che È andato vicinissimo Al record della pista Quindi Sì ci sta Stanno Stanno girando Con tempi Con tempi da qualifica Tutti Sì 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 Performanti al massimo André Altro Largo E intanto qui Stanno per passare Passato L'Oriero Passato Il buon Daniele Galloni Dietro Ferrari Imperversa la lotta Forse tra poco Per il terzo posto O meglio per il quarto Tra Caffagni e Osler E Caffagni però L'ha ripreso Osler Hanno mollato quelli dietro Caffagni su Osler Mamma mia André Ci prova Tra poco Ci prova Ci deve provare Anche perché Comunque lui La quarta posizione O meglio Era terzo Nella prima parte Si trova quinto Ora Sarebbe un po' deludente Come risultato André Lungo ancora Incredibile Ma quanti problemi Ha creato Questa curva 1 Hanno preso male Un po' Tutti le misure Oggi Comunque si Dai Per fortuna Nessuna conseguenza Secondo me Si hai ragione Potrebbe provarsi Sicuramente ci proverà Anche perché Dalla terza Quinta posizione Conoscendo anche il pilota Un ragazzo Che ha davvero Molta forza di volontà Sicuramente proverà A forzare Per prendersi la quarta Ferrari Deve stare in attesa Galloni a questo punto Sta lì tranquillo Si tiene la sua seconda piazza Che è un gran Bel inizio Di Tremoto Staten Perché poi si troverebbe Primo Con 25 punti Andre Esatto Esatto Qui Caffagni tra poco Ci prova Sicuro Andre Anche perché dietro Non ne hanno più Terranova Encoo Passano Poi abbiamo visto Che bandiera blu Chiaramente Con qualche pilota Doppiato Eccoli là Si è formato un terzetto Ferrari Sembra non averne più Ma deve tenere A questo punto La terza piazza Ma ancora più di lui Osler su Caffagni Vediamo Come finisce Questa sfida Nella sfida Siamo ormai Agli ultimi Giri Agli ultimi Agli ultimi metri Dove Caffagni Può costruire il sorpasso Andre Mi sembra difficilissimo Adesso però Adesso è dura Perché Non c'è quasi più Curve Per il sorpassare Più margine Vediamo Anche perché tra poco Passano I piloti A meno di un errore Bandiera Scacchi Vice Lauriero Dorren Johannesburg 99 La prima Della 600 Open Ma Il secondo è Daniele Galloni Che si prende Una posizione Importantissima Per lui E Terzo Ferrari E Osler a questo punto Quinto Caffagni Quinto Caffagni Finisce così Vice Lauriero Dorren Secondo Galloni Terzo Ferrari Osler e Caffagni Andre In due secondi Che gara è stata? Una gara bellissima Di partenza Super Proprio Ci hanno fatto subito Stare in piedi In piedi A guardarla Abbiamo commentato In piedi ragazzi Vice Lauriero Dorren Secondo Nelle Galloni Terzo Un super Michael Ferrari Osler e Caffagni A chiudere la top 5 Grazie per la 600 Open Grazie soprattutto A Andrea Tomio Ciao ciao ragazzi Ci vediamo Cramona Ciao Ciao ciao